Eccoci qua a voi tutti ben ritrovati su Meteo Giuliacci, questa è la previsione per la vigilia di Santa Lucia e con Santa Lucia, questo però domenica, lo scirocco andrà via e la tramontana sulla retta via e soprattutto anche in molte regioni le nuvole andranno via per il giorno di Santa Lucia però intanto questa è la vigilia, quindi se è la vigilia ancora delle nuvole ci saranno, anzi molte nuvole ci saranno da nord a sud, comunque basso il rischio di qualche goccia di pioggia al nord, per lo più nuvolosità sparsa sul versante tirrenico molte nuvole, sul medio e basso versante tirrenico dal mare le piogge potranno lambire i settori costieri le piogge maggiori sulle due isole maggiori, anche qualche fenomeno temporalesco possibile e sul medio e basso versante adriatico, qualche scroscio in transito insomma, corra la situazione e non guarisce, però come promesso andremo incontro ad un aumento della pressione quindi qualche giorno tranquillo finalmente ci sarà, arrivederci